ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video un nuovo video perché come potete vedere dal titolo e andiamo a fare questo nuovo format cosa ha da dirti il tuo diario segreto vediamo cosa la pagina segreta del vostro diario ha da dirvi in questo video spero che questo nuovo format che mi è venuto in mente così vi possa piacere come sempre vi ricordo che trovate i miei contatti sia in sovraimpressione che sotto il video dove lì potete scrivermi la domanda gratuita a cui io risponderò attraverso gli shorts potete chiedermi informazioni per quanto riguarda un consulto privato con me o tutto quello che riguarda i rituali e cos'altro dirvi questo è un nuovo format fatemi sapere nei commenti se vi piace andiamo a vedere che cosa ha da dirvi la pagina del vostro diario segreto e vi ricordo che come sempre è un interattivo prendete quello che risuona con voi e soprattutto con il vostro settore di appartenenza che può essere sentimentale lavorativo ed amicizia personale o familiare dipende da qual è la vostra situazione e in che modo riuscire ad agganciare le parole che le carte vi vogliono dire il messaggio diciamo che la carta vi vuol dire iniziamo subito con il vedere quali sono le prime cose che il vostro diario vuole comunicarvi allora andiamo a vedere come prima carta abbiamo la carta della luna parliamo di emozioni di sentimenti segreti di sogni segreti qualcosa che voi tenete nel vostro intimo qualcosa che voi tenete nel vostro intimo appunto che tenete nel vostro diario segreto un qualcosa che sa soltanto la luna che sa la notte quando di notte vi svegliate magari e comincia la mente a elaborare tutte quelle che sono le vostre emozioni le vostre fantasie i vostri segreti più nascosti la carta vi sta dicendo che non dovete mai dimenticare che è importante sognare nella vita andiamo avanti la musica qui parliamo di una creatività la creatività si sposa benissimo con tutto quello che sono i sentimenti la fantasia le emozioni e soprattutto i segreti quando noi ascoltiamo la musica le emozioni che ci danno sono le emozioni dettate da quello che la musica dice attraverso le parole o dalla melodia che ascoltiamo ma sono semplicemente i ricordi che lei suscita in noi oppure le immagini che ci vengono in mente quando ascoltiamo una determinata musica o una determinata canzone abbiamo un uomo bruno per molti di voi questo appunto racchiude il vostro desiderio i vostri segreti i vostri sentimenti sono i vostri sogni e la musica che ascoltate sono legati a una persona dai capelli scuri potreste essere anche voi indipendentemente se è uomo il la figura rappresentata sulla carta può anche rappresentare la donna il fiore intesa omaggio simpatia buone nuove qui ci sono delle notizie in arrivo notizie in arrivo che potrebbero essere anche in arrivo da parte di questo uomo bruno se questo il vostro desiderio comunque qua tutto mi fa pensare che un vostro desiderio si sta appunto per realizzare amicizie letizia gioco compagnia svago potreste anche aver conosciuto questa persona o dover conoscere questa persona attraverso degli amici comuni attraverso una comitiva attraverso dei luoghi comuni sicuramente c'è qualcosa di bello che il vostro diario vi sta dicendo facciamo attenzione alle persone castane alle persone di capelli scuri perché potrebbero essere appunto diciamo una bella novità nella nostra vita è una donna bruna guardate che siate donna o che siate uomini questa è la vostra stesa perché appunto mi racchiude le persone di colore dai capelli scuri che voi lo siate oppure che lì andrete a conoscere per quanto riguarda il fondo mazzo abbiamo però la nemica invidia gelosia litigio malvagità e sospetti qui c'è qualcuno che nel momento in cui vedrà che il vostro desiderio si andrà a realizzare sarà un pochino un pochino geloso un pochino invidioso potrebbe essere anche un qualcuno che vicino a voi che vi fa da amico ma che da amico non è per niente andiamo a vedere che cosa ci dicono gli angeli guaritori sempre per quanto riguarda cosa il vostro diario vi vuol dire vediamo allora andiamo a vedere parliamo di libertà la libertà che dovete sentire dentro di voi la libertà di fare ciò che vi pare con chi vi pare e anche la libertà di essere voi stessi intanto prendiamo le carte poi andremo a vedere nello specifico poi abbiamo il coraggio vedete il coraggio soprattutto di essere liberi e come terza carta abbiamo l'invecchiamento questo mi verrebbe da dire che se voi diciamo fate in modo che qualcuno possa incatenare la vostra libertà invecchierete prima del tempo mi viene questo da dire i numeri sono 50 32 e 38 per chi è amante anche del gioco allora 50 la libertà chi desidera davvero essere libero ha molto da lavorare la libertà richiede più attenzione di quanto crediamo si libero ma occorre anche tenere presente che prima di intraprendere questa vita abbiamo concordato un piano con i nostri aiutanti celesti e che prevede fasi di libertà scelta e fasi di adempimento di doveri perciò prima dobbiamo adempiere i nostri doveri per poi sentirci pienamente liberi andiamo al coraggio il coraggio è spesso associato al compimento di un atto particolare saltare con il paracadute oppure scalare la vetta di una montagna oggigiorno alcune prove di coraggio sono più riconosciute di altre tuttavia ci vuole un autentico coraggio per affrontare le vostre debolezze e interrogarsi e soprattutto quando si tengono nascosti dei piccoli interrogativi a cui non si riesce a dare una risposta per quanto riguarda la propria personalità e poi sto facendo un sunto più che altro è l'invecchiamento vale la pena vivere la vita nella salute nella malattia nella gioia nel dolore ed ingegno che accompagna l'invecchiamento è un compagno di giochi pieno di vita perciò è vero che noi dobbiamo invecchiare ma cerchiamo di vivere la vita come meglio possiamo con tutti i nostri desideri rispettare l'età nell'altro e consegnare amorosamente una mano e accettare le proprie piccole imprevedibilità con un sorriso e rimanere ancora attivi perciò qualsiasi siano i dubbi le incertezze ricordatevi che chi vive con libertà e coraggio non invecchia pressoché mai andiamo a vedere che cosa ci dice l'oracolo della strega verde vediamo cosa ci dice per quanto riguarda il vostro diario allora abbiamo il cerchio magico adesso andremo a vedere il significato esplicito poi abbiamo il tarassaco e poi abbiamo il libro delle ombre vediamo un po allora il cerchio magico quindi devo andare a cercare ok iniziamo allora per quanto riguarda il il cerchio magico alcune tradizioni magiche e comune tracciare un cerchio prima di ogni incanto compiere questo atto è come generare uno spazio protetto nel quale lo scambio tra energie e magie può avvenire senza interferenze i punti cardinali nord sud est ovest sono i riferimenti per disegnare il cerchio magico così da potersi orientare prima di qualsiasi azione se hai estratto questa carta chiedi quali sono i tuoi punti di riferimento e in che modo puoi rendere visibile e saldi nella tua vita punti di riferimento per quanto riguarda questa carta poi abbiamo il tarassaco allora veniamo un po questa è una pianta in espansione a partire dalla sua radice fittoforme per finire con una col suo caratteristico soffione questa pianta è legata alla perseveranza grazie alla sua capacità di crescita nei luoghi più difficili e impensabili il suo messaggio per te è quello di avere fiducia e non temere è il momento di restare con il cuore in apertura e poi per quanto riguarda il libro delle ombre questo ragolo è molto bello il libro delle ombre è il grimorio delle streghe questa carta è relativa all'organizzazione e alla capacità di fare tesoro delle proprie conoscenze se l'hai estratta è il momento di organizzarti in maniera funzionale e trasmettere il tuo sapere a chi vuole imparare qualcosa di nuovo potreste essere anche voi le persone che devono imparare qualcosa di nuovo mi sono volati gli occhiali non so come adesso andiamo a vedere che cosa ci vogliono dire le fate per questo per questa pagina del vostro diario vediamo vediamo un po di che cosa parliamo il bambino interiore qua ci parla di un bambino interiore qualcosa che deve venire fuori da voi vediamo ancora cosa ci parla la bellezza e fondo mazzo abbiamo divertiti divertiti vedete divertiti allora vediamo un po per quanto concerne il bambino interiore vediamo un po abbiamo la bellezza e poi abbiamo il bambino interiore allora ti senti trascurato e non apprezzato e perché sta ignorando i bisogni del tuo bambino interiore come ogni infanciullo anche il tuo bambino interiore ha bisogno di cure quotidiane prenditi un momento per abbracciarti oggi prenditi un tempo per giocare organizzare un'uscita a un parco divertimenti o semplicemente racconta cose divertenti e leggere a un amico sarai pieno di idee innovative e gli amici ti si accorgeranno presto del tuo nuovo aspetto più sano e vitale per quanto riguarda la bellezza ciascuno di noi affascinante in un in un unico modo è particolare autostima significa anche riconoscere quanto siamo meravigliosi devi essere positivo investi tempo e denaro in servizi che ti fanno sentire in splendida forma come massaggi e trattamenti viso pedicure manicure un bagno caldo un taglio di capelli nuovo impiegare il tempo in attività ricche di significato ad esempio come scriversi anche in palestra e mangiare bene e poi abbiamo divertiti come fondo mazzo vediamo a sommi capi io non leggo proprio tutto quando sono più carte non leggo proprio tutto è divertiti le fate organizzano regolarmente molte feste a volte notturne sanno che il canto e il ballo aiutano a sviluppare uno spirito comunitario anche se preferisci se preferiresti che fosse qualcun altro a proporre un incontro è arrivato il momento che tu prende il controllo di una situazione e pianifichi un evento speciale perciò prendete in mano quella che è la situazione andiamo a vedere che cose ci dicono i tarocchi degli angeli per quanto riguarda questo messaggio guardate abbiamo il 3 di emozioni splendide guardate ve lo faccio vedere questi cherubini che ballano e che si divertono appunto con la carta divertiti ci sta a pennello 3 di emozioni splendide notizie in arrivo verranno annunciati fidanzamenti gravidanzi nascite lauree si stringeranno nuove amicizie e comunità di persone con idee affini allacceranno affini allacceranno rapporti nuovi inizi emozionanti o finali lieti sono dietro l'angolo vediamo ancora un'altra carta cosa ci dice la nostra pagina del diario il 10 di emozioni bellissime queste carte la vita ti manda guardate bellissime la vita ti manda la benedizione di una famiglia stupenda piena d'amore grande felicità e appagamento emotivo sono all'orizzonte l'armonia tra i tuoi cari è assicurata offrendo perdono comprensione e gentilezza agli altri viene ricambiato con amore incondizionato bellissime queste carte e questo messaggio bene cari amici spero che questo messaggio una pagina del tuo diario vi piace mi raccomando fatemi sapere nei commenti se appunto vi piace io cercherò più che mai di riproporvelo io vi ringrazio sempre per tutto l'affetto che mi dimostrate e come sempre vi rimando al prossimo video